Buongiorno Roma, buongiorno a latinoamerica. Si inaugura il campionato internazionale del futbol femenino, trofeo Las Leonas. Per me il caccio... Come la droga, hai visto che le persone che drogate, poverine, non riesco a fare la droga? Per me è che così. Signora Ernesta, io sto facendo un campionato del calciotto. Per Rebe lei se l'è imbitto. Da quanto tempo giochi a calcio? Da quando avevo 7-8 anni. Quando io facevo le infortuni, mia mamma mi diceva devi smettere di giocare a calcio. Io lì rispondevo, mamma, io smetto di giocare a calcio quando diventerò vecchia. La migliore giocatrice, chi lo decide? È la commissione? Cioè voi due, non due. Siamo diventati amici. Il calcio è stato l'inclusione. Mi hanno dato un insegnamento di accettare la vita, di non piangerti addosso. Passaranno, passaranno, passaranno Con le nubi tutte le peni Cantaranno, cantaranno, cantaranno Las leonas, la vita buona Grazie a tutti. Grazie a tutti.